Onorevole Ivan Rota, si chiude l'era Berlusconi? Oggi i cittadini italiani vedono realizzato quello che era una loro aspettativa per dare un rilancio alla nostra nazione. Oggi Italia dei Valori vede riconosciuto un ruolo di opposizione strenua, un ruolo di opposizione coerente, un ruolo di opposizione concreta che ha conquistato la credibilità dei cittadini.